Come è il team leader di Dynamis PRC? È un evento internazionale riservato a tutte le università di ingegneria di tutto il mondo. Qui il Politecnico è presente dal 2004 grazie alla collaborazione e all'intuizione con il professore Curami, Braghin e Kelly. Dal 2004 ad oggi abbiamo realizzato 10 prototipi. La nostra stagione inizia a settembre-ottobre, parte con un recruiting, quindi ogni anno c'è un cambio di circa il 40% dal team. Partiamo con, prima pensare quali sono gli obiettivi per la stagione, di conseguenza ci sono almeno 3-4 mesi di progettazione, poi si passa alla realizzazione dei componenti del prototipo e quindi all'assemblaggio del nuovo prototipo e poi finalmente si va in gara. Quest'anno per il primo anno andiamo a 3 eventi, per il primo anno andiamo in Austria. Anche l'anno scorso eravamo andati a 3 eventi, l'anno scorso abbiamo fatto Italia, Germania e Spagna, quest'anno facciamo Italia, Austria e Germania. Uno degli obiettivi di quest'anno era appunto rendere il prototipo dell'anno scorso, che a tutti gli effetti era molto performante, più affidabile. L'anno scorso abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto all'anno precedente e abbiamo pagato con purtroppo pochi giorni di test. Quest'anno sembrerebbe che a breve il nuovo prototipo sia già pronto, questo ci permetterà di fare diversi test e appunto correggere quelle cose che comunque potrebbero non andare. Sicuramente tra le ambizioni sarebbe quello di arrivare sul podio in Italia, e almeno nella top 15 in Germania.